E da grande, questo è il mio sogno, ci sto lavorando. Eccoci qua amici della Bussola TV, siamo alla Sala Molière con Nando Paone. Allora Nando, partiamo dalla Compagnia del Sonno, questo spettacolo che è andato in scena anche al Teatro San Ferdinando di Napoli. Come è andato e cosa ti sta dando questo testo? È andato molto bene, abbiamo fatto sia Napoli che Palermo, essendo una coproduzione tra stabili. Teatro Nazionale Napoli, Teatro Nazionale Palermo, è andato molto bene. Pensavamo addirittura, siccome l'autore è palermitano, due degli attori sono palermitani, pensavamo che a Palermo andasse ancora meglio. Invece devo dire che ha tenuto allo stesso modo, quindi abbiamo avuto una prova di uno spettacolo trasversale che può piacere a chiunque, in qualsiasi lingua, anche perché l'intento di Roberto Alaimo, l'autore, era quello di creare un linguaggio terzo, che non fosse né napoletano né palermitano, insomma siciliano genericamente, ma con sonorità miste, con costruzioni diciamo morfologiche della frase diverse, strane. Quindi è stato colto molto bene, siamo rimasti molto contenti. Si parla di sogni e quindi volevo tornare un po' indietro e volevo chiederle qual era il suo sogno da bambino, se lo ricorda? Certo, è quello che sto perseguendo tuttora, ho sempre sognato di fare questo mestiere. Ho l'obby dell'arte figurativa, quindi mi piace disegnare, dipingere e scolpire, insomma, quest'obby che ho parallelamente esercitato fin da ragazzo, insomma, però diciamo che il mio obiettivo principale è sempre stato quello di fare l'attore e quindi sto continuando a lavorare per farlo. È un sogno che sta andando avanti, spero di realizzarlo prima o poi. Allora, a proposito di sogni, noi siamo in questo teatro, la Sala Moliera, di cui lei è direttore artistico. Com'è nata questa avventura? Ma nasce 22 anni fa circa perché essendo amici di Emma Cianchi, una coreografa, lei un giorno disse a me e a mia moglie che stava per aprire un centro di arti performative e se eravamo interessati a parteciparvi, insomma. Quindi ci facciamo costruire, ci facciamo tirare su due pareti e mettiamo un piccolo palcoscenico che non è qui adesso, sempre all'interno di questa struttura ma in un altro ambiente. E negli anni poi, nel 2010, quindi ormai quasi 13 anni fa, decisi di impossessarmi in qualche modo di quest'ala, di questo locale e di far costruire tutto quello che si vede. Insomma, io l'ho fatto fare con iniziativa totalmente privata, cioè soldi pubblici non ne ho spesi. I soldi pubblici, gli unici soldi pubblici che ho speso sono i miei, perché comunque faccio parte del pubblico anche io. E così nasce questo sogno, insomma, io amo definirlo anche un po' impropriamente il mio giocattolo, nel senso che chi mi conosce sa che sono un uomo abbastanza semplice, cioè non amo le grandi macchine, non amo le grandi marche e quindi gli spiccioli che risparmio li... La parola investimento non è tanto appropriata perché prevede un guadagno, l'investimento. Quindi si vede solo le spesi, esatto. Allora, il 2020 è stato un anno maledetto, saremmo dire una tempesta, però c'è stato questo arcobaleno che per lei è rappresentato dal ladro di Cardellini, questo film molto bello di Carlo Luglio. Io volevo chiederle di parlarmi del suo personaggio secondo il suo punto di vista, perché è una commedia che ha dei lati comici, ma anche lati malinconici. Ma Carlo Luglio ama definirla una dramedy, cioè un dramma-commedia. E non è del tutto sbagliato. Io ho accettato quella proposta, amo molto il cinema-commedia francese e questo mi sembra molto vicino a quel genere. Insomma, sentivo molto vicino a me anche quel personaggio, insomma, per tutta una serie di motivi, adesso è lungo a spiegare, però mi ci sono subito sentito appartenente, proprio. E poi tutto nasce da un, come si chiama, da un documentario che qualche anno prima, cinque o sei anni prima, Carlo Luglio aveva fatto proprio sui cardellari, quelli lì che vanno a Napoli, si dice a Pararezza, cioè mettono le trappole per questi cardellini, così nasce questo film. È stato anche scoprire un mondo nuovo. Quindi io ne porto un bel ricordo anche perché è un film che è andato male, come botteghino, perché in pratica uscito in piena pandemia è stato in realtà visto molto poco, però ha girato parecchio e io ho avuto la candidatura ai nastri d'argento, ho vinto il festival delle commedi di Monte Carlo, insomma ha avuto un eco inaspettata rispetto all'incasso vero e proprio. Ma oggi purtroppo il cinema, a meno che non sia quello delle major oppure quelle confezioni Tizio Caio Sempronio famosissime che li vanno a vedere per forza, questo genere di cinema è quello che mi affascina paradossalmente anche un po' di più perché è quello dove si rischia un po', ma poi i prodotti sono, sai, il cinema d'autore, il prodotto fatto con una certa ricercatezza, quindi è un bel ricordo. E a proposito di botteghino si dice che il cinema italiano attualmente sia un po' in crisi, io però da che ho memoria ho sempre sentito il cinema in crisi, il cinema in crisi. Lei che c'è dentro, ovviamente come tanti altri attori da più di 40 anni immagino, come la vive questa crisi? Ma guarda, ti racconto un breve aneddoto, io adesso non sto a spiegare come, ho in qualche modo ereditato le mini cassette che si mettevano nelle segreterie telefoniche negli anni 80, così, di un personaggio molto noto nell'ambiente teatrale, perché è stato un produttore, poi un organizzatore, Lello Vianello, e in queste cassettine, anni 80, anche prima, anni 70, si sentono voci di, non faccio nomi perché insomma sono attori famosissimi, attori e attrici famosissime, che lamentano questa cosa, lamentano la crisi, ma come dobbiamo fare, ma qua non si batte chiodo, quindi è una cosa proprio storica e io ritengo che soprattutto in questi periodi di cosiddetta emergenza chi vuole fare qualcosa veramente e ci crede seriamente lo fa, a prescindere, quindi è anche un incoraggiamento insomma che faccio a quelli che dicono, vabbè ma io lo vorrei fare ma non ci sono soldi, invece intanto fallo e poi i soldi arrivano. Se le dico 1992 e chi è di scena, lei cosa mi risponde? È l'anno della formazione della, ecco non lo sapevo, io non me lo ricordavo, e beh lì è stata una bella avventura perché nel 92 era già una 24, 25 anni che io facevo questo mestiere avendo avuto insomma al mio attivo il teatro classico, il teatro diciamo sempre, quasi, sempre, non sempre ma quasi sempre leggero, comico, così. Avevo anche già lavorato con Edoardo ed è proprio lì che avevo conosciuto Vincenzo in compagnia con Edoardo e un giorno lui mi fece leggere una sua commedia, diceva a me piace scrivere, ti vorrei far leggere una commedia, la leggo, mi folgora e l'abbiamo messa in scena come dei giovani dilettanti così neofiti, insomma siamo ripartiti proprio da zero, io lui, Carlo, Bucci Rosso ed altri e quindi decidemmo di fondare questo gruppo, questa compagnia che poi insomma la storia la sanno tutti ed è durata, è una storia che è durata otto anni, quella diciamo professionale, quella d'amicizia perdura tuttora insomma con Vincenzo. E il primo incontro ce lo vuole raccontare quello con Salem, se lo ricorda? Il primo 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 è un ricordo un po' vago perché noi abbiamo fatto amicizia in compagnia con Edoardo ma ci eravamo conosciuti qualche anno prima ancora, diciottenni, ventenni, perché si frequentava la stessa sezione di partito e quindi ci incontravamo lì, ci salutavamo e curiosamente sapevamo l'uno dell'altro che c'era intenzione di intraprendere questo messaggio e sarebbe bello fare l'attore, eh, ti piace anche a me che sarebbe bello, però era un fatto un po' utopistico quello e poi essendoci poi io, quindi il primo proprio primo primo non saprei ma ricordo quando entravo in quella sezione che ci incontravamo e ci salutavamo con grande slancio e sognavamo insieme di intraprendere questa carriera. Ci sono stati tantissimi personaggi interpretati da lei sia in teatro, sia in cinema, sia in televisione, ma c'è uno che su tutti l'ha assegnata a livello umano e artistico? No, tutti, tutti indistintamente, perché credo fermamente che un po' di tutti i personaggi ci resti incollato. Ora chiaramente ci sono i personaggi che hanno più successo di altri, altri che vengono letti in maniera diversa rispetto ad altri, quindi non si può generalizzare. Però in effetti veramente non saprei quale, mi ha lasciato più di altri o, non so, anche per differenze caratteriali tra il personaggio e la persona. Veramente, sinceramente rispondo tutti. E tra questi spettacoli c'era la premiata pasticceria a Bella Vista che sarà messo in scena al Campania Teatro Festival dalla Compagnia Nesta. Io le volevo strappare la promessa di andarlo a vedere. È una notizia che non sapevo. Beh, l'andrò a vedere, sicuramente, sicuramente. E in conclusione, dato che siamo partiti dal sogno, io le volevo chiedere se oggi, Nando Paone, dopo 40 anni di carriera, ha ancora voglia di sognare, qual è questo sogno? Da grande vorrei fare l'attore, vorrei tanto fare l'attore da grande. Questo è il mio sogno. Ci sto lavorando. Grazie, Nando Paone. Istituto di Vigilanza Armata Prestige. Con l'innovativo sistema di videosorveglianza e videocontrollo attivo gestito dalla nostra centrale H24, 365 giorni l'anno, è vicino a D, non solo virtualmente. Soluzioni personalizzate, installazione, assistenza e manutenzione gratuite. Richiedi un preventivo gratuito. Onoranze funebri pezzilla. Funerali a rate, anche senza busta paga. Perchè a papà è a morire, c'è sempre tempo. Grazie mille. Grazie a tutti.